A tutti voi Stay Rock e vi ricordo che Rock TV, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, dopo 15 anni siamo riusciti a farvi questo regalo, a farvi e a farci questo regalo. Da 3 di ottobre saremo, oltre che su Sky, saremo in free streaming, vuol dire che da casa vostra, ovunque voi siate, sul telefonino, su un computer, ci potete guardare gratuitamente. Perciò chi non ci guarda, chi non ci guarderà, vuol dire che è figlio della De Filippi e di Gigi D'Alessio. Che brutto augurio. Stay Rock a tutti voi.